6 abitudini che fanno di voi una donna di maggior successo. Una donna di successo è abbastanza sicura di sé da sapere cosa vuole. È una combattente e una persona che accetta il rischio. Sa quello che ha da offrire, è consapevole delle sue carenze e impara a risolverle. Vi assomiglia? Tutte noi abbiamo le qualità di una donna di successo. A volte è sufficiente incanalarle meglio. 6 consigli per essere una donna di successo. 1. Credere in sé stesse. Questa è la cosa più importante che dobbiamo dire come consiglio di carriera per le donne. Se non avete fiducia e fiducia in voi stesse, non arriverete da nessuna parte. Essere sicuri di sé è un trampolino di lancio per il successo in ogni ambito della vita. La fiducia in sé stesse deriva dalla consapevolezza della propria autostima, dalla fiducia nelle proprie capacità di lavoratrici e casalinghe e dal sentirsi bene con sé stesse nel modo in cui ci si presenta e ci si veste. Se siete in ritardo in una di queste aree, fate qualcosa e sarete sulla buona strada per il successo. 3. Stabilire gli obiettivi. Una parte del successo consiste nel porsi degli obiettivi. Che siano a breve o a lungo termine, avere in mente un obiettivo e impegnarsi per raggiungerlo vi porterà sulla strada giusta. Nel fissare gli obiettivi professionali e personali, però, ricordate di renderli realistici. Fissare obiettivi realistici vi porterà solo delusioni e potrebbe persino farvi deviare dagli altri obiettivi della vostra vita. 4. Abbracciare ciò che si fa. Imparate ad appassionarvi a tutto ciò che fate al lavoro o a casa. Non fate mai nulla a metà. Questo fa perdere di vista il quadro generale. Se non vi appassionate al vostro lavoro, ogni giorno vi sembrerà un lavoro di routine. Si finisce per diventare più risentiti e meno efficienti. 5. Favorire le relazioni. Una delle qualità più significative di una donna forte è quella di avere relazioni solide con le persone, soprattutto con le altre donne. Nel vostro percorso verso il successo come datori di lavoro o dipendenti, è sempre importante promuovere buone relazioni con i vostri colleghi. Per questo è necessario mantenere un atteggiamento di lavoro positivo con i colleghi, rispettandoli e rendendoli affabili. Apprezzare ciò che si ha da offrire, dalle cose più piccole a quelle più grandi. Nessun successo è mai stato completo senza correre dei rischi. Rischiare è una delle caratteristiche principali di una donna di successo. Siate amanti del rischio, ma non fino al punto di prendere decisioni avventate che mettono a rischio il vostro lavoro, i vostri obiettivi e le persone coinvolte. Soppesate i rischi connessi a qualsiasi questione prima di affrontarla e, quando siete certi che non vi ostacolerà, fatelo. Non aspettatevi che vi accadano cose belle se non vi impegnate per ottenerle. Sapete cosa serve per capire come diventare un'imprenditrice di successo nella ricerca del successo della vostra vita.